È una squadra di calcio, io gioco a calcio, quindi io dico che anziché giocare in 11, già gioca in 8 e poi rimane in 7. Se fosse una partita di calcio l'arbitro fischierebbe la fine perché a 7 non si può giocare, perché gli appassionati lo sanno e quindi perderemo 3-0 a tavolino. Non vogliamo perdere a tavolino. Il parallelo calcistico, tanto simpatico quanto emblematico della difficile situazione degli uffici della procura nocerina, è utilizzato dal sostituto procuratore Ernesto Caggiano per spiegare e lanciare l'ennesimo SOS sulla carenza di organico in procura. Una procura sotto organico con una mole di lavoro che è quasi il triplo rispetto a quello dei colleghi della procura di Salerno e che va necessariamente incrementato. Noi ci aspettiamo certamente la nomina di un nuovo procuratore che venga determinato soprattutto perché si possa ottenere un ampliamento dell'organico della procura che ormai è ineludibile, è un problema che non può essere più mandato all'anno che verrà ancora ma nel 2016 deve essere risolto. Come è noto noi siamo soltanto 7 per il procuratore, adesso manca lui. Quindi 7 in tutto. Adesso 7 in tutto. Avremo sicuramente un'ottima facente funzione che è il dottore Sessa. Però un uomo in meno. Però un uomo in meno. Ci aspettiamo un incremento dell'organico nell'ordine di almeno 2-3 unità per poter iniziare nuovamente a macinare giustizia, a offrire giustizia ai cittadini come meritano. Perché anche la lunghezza dei tempi, anche se il cittadino non è interessato a questo perché chiede giustizia, dipende in gran parte dalla mancanza di uomini e risorse. Non solo dei sostituti, questo per completare, per rendere ancora più amaro il boccone che buttiamo giorno in giorno, ma anche del personale amministrativo che è sempre di meno. Adesso stanno andando in pensione, escono con questa finestra di gennaio degli importanti collaboratori che approfitto per salutare. E anche del personale della polizia giudiziaria che è parametrato al numero dei sostituti procuratori. Quindi pochi sostituti vuol dire anche poca polizia giudiziaria, poca possibilità di svolgere indagini in maniera più penetrante. Una piccola squadra può fare sicuramente di più se affiatata, ma rimane sempre piccola di fronte ad una realtà che invece è grande, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, per la tristemente nota qualità della delinquenza sul territorio e per la sua diffusione. Sicuramente ci aspettiamo di migliorare, nonostante sappiamo che all'orizzonte ci sono tante ombre e tante nubi. Ci aspettiamo sicuramente che un aumento dell'organico della Procura di Nocella, perché in queste condizioni è difficile reggere l'urto del lavoro che già da qualche anno ci occupa. E quindi l'auspicio non è solo quello di avere un collega che vada a reggere le sorti della Procura di Nocella altrettanto valido come quelli che lo hanno preceduto, ma soprattutto di ottenere quello che questo ufficio e questo territorio meritano. E per il sostituto procuratore anziano a Medeo Sessa alla quarta reggenza dell'ufficio di Procura potrebbero esserci in serbo delle novità in merito. La nostra è una procura disastrosa, potrebbe essere il migliore ufficio giudiziale se dessero il numero proporzionato di personale, di addetti, di magistrati, che purtroppo non c'è nulla in questa direzione. Io è la quarta volta che prendo la reggenza di questo ufficio, e come ho fatto anche nelle altre circostanze, cerco di vedere cosa si può fare per, come si suol dire, rassiare il fondo del barile e cercare di sistemare il più possibile, di far funzionare al meglio l'ufficio magari con delle idee che mi sono venute e che poi magari vedrete.